questo dipinto è stato dipinto a roma questa quest'opera importantissima di caravaggio è stato dipinto a roma proprio nel suo periodo diciamo più 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 fecondo di produzione di invenzioni e di diciamo di committenze che ebbe da persone molto importanti nella roma di quel periodo e questo in modo particolare fu commissionato dal cardinal mattei ed è stato dipinto nel 1603 a roma e poi c'è tutta una vicenda complessa perché poi diciamo durante la divisione ereditaria pare che sia stata commissionata un'altra versione che doveva essere data gli eredi però questo diciamo è un argomento complesso che non vogliamo trattare in questa sede in questa sede invece vorrei parlare soprattutto della della dello stato di conservazione e della tecnica pittorica e compositiva e inventiva diciamo di caravaggio di questo periodo vorrei dire che questo è il periodo in cui caravaggio concentra maggiormente la sua tavolozza cromatica perché lui inizia diciamo nel primo periodo della sua produzione forse uno dei primi quadri o come perlomeno uno dei più sicuri del suo proprio il primissimo periodo a roma è il becchino malato che adesso è presente nella galleria borghese in cui c'è una preparazione grigia e un cromatismo molto semplice piuttosto scarno che dà questa 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 impressione diciamo di quadro di dipinto abbastanza freddo come toni cromatici non dobbiamo dimenticare che caravaggio è un pittore del 500 perché lui nasce nel 1571 per cui nel 600 nel 1600 tondo anno tondo aveva praticamente 29 anni per cui lui si forma con tutto quello che ha imparato soprattutto a milano e lombardia da pittore del 500 per cui la sua formazione noi pensiamo che sia un pittore del 600 cioè un pittore già abbastanza avanti nel secolo ma in realtà no lui nasce appunto nel 500 e ci esprime proprio questo cambiamento radicale da quella pittura che è una pittura composta fredda soprattutto nella scuola pittorica lombarda mentre invece venezia era tutto in un altro modo più colorata più libera più mossa più inventiva e lui proprio rappresenta questo passaggio dalla fine del 500 all'inizio del 600 in cui lui inventa praticamente un nuovo modo di rappresentare la natura e l'uomo soprattutto lui si concentra soprattutto nella riproduzione diciamo nella interpretazione dei caratteri umani e lui infatti è famoso perché non usava i modelli non usava preparare la sua composizione con un disegno preparatorio preciso ma prende le persone dalla strada dalla vita e fa diventare praticamente attori di questa sua scena che è sempre un'invenzione straordinaria di cui lui è praticamente la mediatore cioè la sua la sua la sua la sua visione il suo occhio la sua interpretazione la sua conoscenza della di quello che lui dipinge passano attraverso la sua coscienza e la sua visione della realtà infatti lui in questo dipinto si autoritrae in questa questa figura è il suo autoritratto ma questo è uno dei tanti perché lui forse è il personaggio il pittore che si è autoritratto di più nella storia dell'arte perché proprio lui vuole significare proprio questo perché attraverso la sua visione e la sua la sua interpretazione mentale la natura si rivela se non c'è la sua interpretazione la sua visione la natura non esiste non esiste né il fatto che lui vuole rappresentarci questo appunto è un quadro molto complesso perché al di là della del numero delle figure diciamo che sono praticamente sono otto praticamente che non vediamo è un quadro complesso perché lui praticamente divide il dipinto in due parti cioè nella parte di sinistra e c'è l'azione cioè si svolge la scena e il soggetto praticamente rappresentando solo nella parte di sinistra e nella parte di destra invece sono tutti questi che osservano quello che sta succedendo il personaggio di centro che è questo armigero che sta prendendo cristo alla gola intanto ovviamente il soggetto è la cattura di cristo e divide e unisce insieme le due parti perché lui praticamente è la figura che esce dalla bidimensionalità del dipinto della tela e diventa tridimensionale con questo suo gomito questo cuneo diciamo che che è questo che proprio da la spinta per uscire da questa dimensione piatta della tela ma esce fuori e coinvolge noi nella 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 rappresentazione come se noi attraverso questa profondità che viene espressa da questa da questo disegno da questa parte che sporge potessimo potessimo entrare lui ci dà come il permesso dice vieni anche tu dentro a partecipare insieme a noi a quello che sta succedendo per cui queste sono le due parti del dipinto e poi nella parte centrale lui ha condensato ovviamente tutta la sua forza cromatica anche cercando di e riuscendo nel suo nel suo intento di costruire un volume che racchiude tutte le tutte quante le figure un volume che esce fuori da sempre da questa dimensione bidimensionale della tela e esce fuori e diventa come se ci fosse una zona volumetrica diciamo che è che praticamente è diventa come come dal punto di vista geometrico come se fosse un volume un semisfero che racchiude queste figure per cui diciamo questa è la la cosa che più evidente secondo il mio punto di vista insomma della della rappresentazione tanto è vero che lui nelle zone laterali che sono queste a sinistra e quest'altra a destra ha lasciato un vuoto in modo che permette appunto alla parte centrale di emergere il vuoto di sinistra di destra che noi vediamo non lo è in realtà mentre a sinistra effettivamente c'è una zona nuda vuota diciamo in cui si svolge la scena invece a destra lui ha dipinto le figure che diciamo che sono accennate si vedono bene nella parte alta con i loro volti che sono evidentissimi ha dipinto le figure ne ha dipinte con una velatura di terra in maniera tale che illuminando il dipinto come deve essere dominato questa zona rimane quasi completamente in ombra però in realtà c'è quest'armigero che che è dipinto la figura di caravaggio che ha un braccio appoggiato sul fianco e da cui si vede appena la mano che sporge per cui diciamo queste zone sono lasciate in maniera che emerga più facilmente che non possiamo leggere più facilmente la parte centrale il cromatismo di caravaggio è molto noto diciamo ma è molto semplice come dicevo prima mentre all'inizio appunto lui usava veramente tre colori che erano il bianco il nero le terre le terre intendo dire la terra d'ocra la terra d'ombra e la bruciata un naturale a seconda dei casi e poi alcune lacche esempio nel bacchino malato lui usa una lacca di garanza quasi di olascia con cui tinge la cintura e alcune con parte della frutta e poi c'è il rosso di cinabro che è l'unico rosso che lui usa soltanto questo rosso ce ne sono vari naturalmente da poter scegliere ma lui usa il rosso di cinabro che noi vediamo in questo dipinto in maniera molto molto chiara questo è un colore minerale che veniva cavato da delle miniere che poi veniva macinato lavorato loro li diluivano poi li purificavano insomma c'è il processo abbastanza lungo per cui si riesce poi a ricavare un colore così così vivace nitido e soprattutto inalterabile invece in quest'altra parte del dipinto c'è sempre il rosso di cinabro sotto ma è velato nelle ombre diciamo che lui vuole sensibilizzare appunto questa questo panno che è molto mosso e vuole diversificarlo da questa base di cristo che invece è molto squillante questa parte è velata con la lacca di garanza che è un colore che lui usa molto e che si usa normalmente che per ombreggiare perché è un colore molto profondo e trasparente che però insomma non non dà l'impressione diciamo di avere una ecco una basta una pasta cromatica piatta è una pasta cromatica molto trasparente e molto mossa così può fare un bellissimo lavoro appunto di velatura diciamo che la velatura per caravaggio è un sistema pittorico che usa poco perché i suoi colori come potete vedere sono degli impasti diciamo che sono abbastanza nitidi semplici cioè lui non ha bisogno di fare delle velature molte velature le usa per esempio appunto come dicevo qui in questa parte del del rosso della del mantello e le usa intorno ai volti naturalmente no perché qui per esempio noi possiamo vedere in questo dipinto proprio una parte di di una velatura di bitume che lui probabilmente ha usato per ammorbidire certe sue zone diciamo molto illuminate qui anche possiamo vedere una leggera velatura forse di bitume che vela che un pochino ammorbidisce questo questo verde che dovrebbe essere una terra verde e per cui lo fa diventare più morbido però diciamo i suoi impasti sono nitidi non sono non sono fatti di velature sovrapposte c'è in questo quadro una cosa particolare un colore particolare che è usato molto raramente e che è questo smaltino lui con lo smaltino ha dipinto questo è questo mantello diciamo che Cristo porta intorno al braccio a questo punto e che ci aiuta a identificare questo triangolo diciamo nella della nel mezzo della figura di Cristo per poter dovinare quella che è questa linea diagonale che passa attraverso il naso di Cristo il triangolo e finisce sulle mani che sono in questa posizione in questa questa posizione diciamo di si diceva in antico incrocicchiate in realtà sono incrociate e sono messe in questa posizione che è la posizione che rappresenta la diciamo la l'obbedienza che la sottomissione e in questo caso significa appunto la sottomissione di Cristo al volere del padre che lo vuole sacrificato e di consa lei lui in questa maniera incrociando le mani in questo modo testimonia alle persone che sono intorno ma a noi soprattutto che ha deciso di accettare la sua sorte e infatti in questa maniera diciamo questa cosa risulta evidentissima anche se poi consideriamo il suo sguardo che praticamente non è dipinto è soltanto accennato i suoi occhi sono come due due zone buie diciamo di dolore che lui sta che è questo dolore che lui sta accettando e che poi sarà ovviamente molto più marcato molto più sofferto di quanto lui sappia in questo momento anche se lui è consapevole di quello che lo aspetta però insomma questa è proprio una testimonianza ed è secondo me una straordinaria modalità diciamo in pensione per rappresentare questo dolore che lo accoglierà nel prossimo futuro dopo poche ore lui sarà al croce fisso per cui parlavamo di questa materia che è lo smaltino allora dicevamo che questo smaltino è un colore abbastanza raro che è molto antico perché veniva addirittura usato nel prima del periodo moderno l'hanno usato soprattutto anche gli egiziani che l'hanno praticamente inventato per caso probabilmente facendo scaldare magari accendendo un fuoco sulla sabbia con degli altri materiali venne fuori questa sostanza vetrusa blu ed è un blu di cobalto soprattutto evidentemente c'era del cobalto in questa in questa mescolanza che loro bruciavano ed è un blu di cobalto che è stato usato in tutto l'oriente tanto che nella porta di babilonia quella della porta di sahara della diciamo di babilonia che è conservata al museo archeologico di dublino di scusa di di berlino e c'è questa porta con queste grandi formelle diciamo no che con cui sono poi costruiti leoni che era la porta di babilonia una delle otto porte di babilonia e queste formelle erano impastate con i lapisrazzuli però la invietriatura diciamo che le ha mantenute fino adesso perché questo è questo per primo del quinto secolo avanti cristo e che la porta che l'ha conservata fino adesso dipendeva proprio da questa invietriatura che veniva usata cuocendo appunto questo vetro tinto con il cobalto è potuto conservare questo colore fino ai giorni nostri in questo caso invece questo smaltino appunto viene dalla da da questo vetro tinto con colorato con il cobalto e lo usavano molto a venezia e il fatto che lui conoscesse questo smaltino ci può testimoniare forse in maniera più diciamo più certa un'ipotesi che noi abbiamo perché non abbiamo sicurezza che caravaggio prima di arrivare a roma dopo aver lasciato milano sia andato a genova genova scusate a venezia e a venezia ma può essere potrebbe essere che questa testimonianza appunto che viene dall'uso di questo colore ci possa far credere che sia una cosa in realtà abbastanza possibile perché venezia venezia intanto è collegata con l'oriente come tutti quanti noi sappiamo e probabilmente aveva avuto notizia di questo di questo di questo vetro di cobalto che magari ha usato nelle sue vetrerie proprio per tingere il vetro che usava che faceva nelle vetrerie con il cobalto e poi ha imparato l'uso di questo vetro macinato che dava questo colore molto neutro diciamo che poi che in origine non era quello che vediamo adesso ma era sicuramente più squillante ma mai come il lapislazzuli che veniva poi invece usato da molti altri pittori in europa perché il lapislazzuli è troppo protagonista diciamo in un dipinto molto evidente e per la sua idea diciamo di ecco di cromia di sensibilità che ama i colori biondi che sono tutti solitoni del rosso del giallo questo questo blu era sicuramente troppo invadente e ha privilegiato questo smaltino appunto che era un colore tra il celeste e il violetto che poi purtroppo però negli anni e secoli che dobbiamo considerare che questo quadro ha praticamente cinque secoli perché è stato dipinto nel 1603 per cui veramente molto antico e questo questo colore questo smaltino si è alterato però noi possiamo ancora vedere questo celeste polvere che illumina le creste del panneggio senza però essere invadente rispetto a quello che è appunto il cromatismo generale poi c'è un'altra cosa secondo me molto importante su questo dipinto che bisogna osservare e che è la composizione cioè lo schema compositivo perché noi vediamo vediamo un quadro vediamo un'opera pittorica e leggiamo la bellezza questo è un quadro che indubbiamente la prima cosa che ci comunica è questa grande bellezza diciamo questa grande questo grande fascino perché delle figure la composizione diciamo noi non leggiamo esattamente cosa c'è dietro questa bellezza che noi percepiamo ma esiste una regola molto precisa e molto assolutamente da quello non si distaccavano mai che era appunto la qualità del colore come accostare i colori poi ci sarebbe da dire tutto un altro discorso molto complesso sull'abbinamento dei colori perché i colori sono stati studiati nei secoli precedenti al seicento ed erano i colori primari colori secondari colori complementari e in genere loro mettevano questi colori uno accanto all'altro proprio per creare l'armonia questi in questo avranno maestri i pittori più antichi del 300 e del 400 ma adesso limitiamoci a parlare di questo ambiente di questo periodo qua per cui c'è comunque sempre questa bellezza che noi notiamo una grande armonia ed è che cosa è motivata questa armonia è motivata appunto da questa atteggiamento cromatico di cui abbiamo parlato ma anche della composizione geometrica allora abbiamo detto che in questo dipinto la linea fondamentale è questa diagonale che passa attraverso la figura di Cristo che ovviamente è la figura dominante per cui questo è il fulcro della prospettiva di questo dipinto da queste mani diciamo dal punto di vista del fulcro di questa prospettiva partono delle diagonali che sono queste che prendono diciamo nella loro disegno le figure sono delle diagonali che sono in qualche maniera armoniche tra di loro non si può dire che siano parallele perché non è questo il punto ma c'è la distanza tra questo questo e questo che poi si congiungono qui praticamente la stessa poi una caratteristica interessante che non si nota ovviamente a occhio nudo è che la diagonale della figura è parallela alla diagonale dei nasi per cui abbiamo tutte le linee praticamente parallele questo ci dà una specie di come dire scansione ritmica che comunque è l'armonia queste sono le tre figure la quarta praticamente dietro qui non si vede ma è diciamo c'è ma questo non fa parte del discorso perché è nascosta praticamente dall'altra parte abbiamo questa diagonale che è importantissima come dicevo e poi abbiamo queste queste diagonali che sono praticamente parallele tra di loro e ma formano un arco formano un arco che ci dà la dimensione del movimento perché questo dipinto è come se fosse una fotografia fatta con un flash che blocca il movimento delle figure che compongono la scena per cui queste tre linee sono estremamente importanti perché ci danno un movimento diciamo parallelo tra di loro e creano al contrario di queste che sono rigide in questo senso queste invece hanno questo movimento è come se fosse un carosello come se noi vedessimo che la scena gira la scena gira ma ritorna sempre in questo punto che è il punto focale questo e questi sono i punti focali della composizione per cui questa è una cosa molto importante c'è questo ritmo che è fondamentale in questo dipinto nello stesso ritmo fanno parte le tre teste che sono allineate cioè se noi tiriamo una linea tra qui qui e qui praticamente le tre teste sono sulla stessa linea non sono diciamo come dire scomposte nella loro composizione e un'altra linea bellissima interessantissima è intanto diciamo l'idea di chiudere queste tre figure queste tre teste importantissime in questa questo mantello che ricorda alcune composizioni antiche romane per esempio c'è la famosa saturnatellus che è quella che a roma sta nella nella rapace c'è questa figura di donna seduta in un paesaggio che ha un grande un grande mantello che la circonda e questa è stata un'idea che è stata accoppiata poi innumerevoli volte e lui anche diciamo si ispira probabilmente a questa questa figura antica e con una linea unica infatti io ho fatto la prova se noi con il braccio teso così cerchiamo di tracciare un tondo vedete che io il mio braccio praticamente non si piega non deve fare nessuno sforzo deve semplicemente seguire quest'andamento per cui questa è un'unica linea che raccoglie tutte e tre le figure e questa è un'altra parte dell'armonia che noi leggiamo ma che non riusciamo a capire perché c'è questa armonia questa è una linea fondamentale e anche questa è una diagonale che in qualche maniera si colloquia con questa e con queste altre nell'altro senso per cui diciamo questa meraviglia questo capolavoro secondo questo quadro capolavoro è figlio di tutte queste leggi e tutte queste regole che lui ovviamente conosceva ma riusciva a come dire far sottacere queste regole alla sua invenzione alla sua sensibilità al suo pathos in maniera che nessuno si poteva accorgere che c'era questa regola anche perché appunto lui non faceva dei disegni preparatori per comporre questa condizione così complessa ma diciamo abbiamo scoperto da poco da poco tempo in fondo abbiamo esaminato da poco tempo che lui usava segnare sulla tela prima della pittura cioè sopra la preparazione pittorica sotto il colore lui usava delle delle tracce che metteva diciamo con l'ocra o col giallurino probabilmente o l'uno o l'altro sulla tela prima prima di ricomporre in cui diceva allora la mia composizione va da qua a qua queste sono questa è la linea per esempio qui c'è una una di queste tracce con l'ocra per cui probabilmente lui ha detto la mia composizione finisce qui qui questa ce n'è un'altra qui ci sono c'è la distinzione tra questa testa e quest'altra qui c'è addirittura il disegno della cornice che noi abbiamo alle nostre spalle che è questa l'originale fatta diciamo per il quadro e incredibilmente rimasta fino a noi e per cui qui c'è questo profilo e probabilmente siccome lui diciamo ha sicuramente disegnato il decoro diciamo di questa cornice come lui fece nella nel dipinto della della medusa in cui la cornice è dipinta insieme al quadro ed è similissima questa qui con lo stesso decoro così floreale può stato ma è estremamente sottile come come disegno e che viene da una decorazione antica diciamo no e però ecco questo è fatta questo è oro naturalmente questa invece è probabilmente una tempera dorata e per cui ci sono tutte queste volute che si rincorrono e con come se fossero dei tralci di diciamo di vegetazione ma è ricchissima ma estremamente sobria per cui questa è una cornice che su questo dipinto diciamo lo valorizza in una maniera straordinaria e poi una rarità trovare una cornice di questo periodo così rimasta intatta che non si è mai rotta non è mai successo nulla per cui diciamo queste sono le cose salienti che si possono dire sul dipinto poi ovviamente c'è tutto il discorso come dire più profondo no perché un dipinto di questo genere è come se fosse un romanzo diciamo su cui possiamo raccontare e tantissime cose parlavamo di questi segni fatti con l'ogra e c'è uno bellissimo sono questi due segni che sono sulla mandibola di caravaggio e in modo che lui ha detto qui c'è questa figura per cui c'è questo baffo diciamo chiaro sulla mandibola e sull'orecchio di caravaggio per cui lui ha detto qua c'è la testa qui c'è la mia testa diciamo e poi ce ne sono ancora qui c'è un altro qua che è sempre sotto il rosso che io ho lasciato nel mio ritocco pittorico ovviamente tutti quanti in assoluta evidenza perché sono testimonianze importantissime della sua composizione per cui non si potrebbero essere un corcometto ma perché non hai coperti assolutamente no perché sono appunto dei segni rari ecco diciamo di come lui abbia potuto usare lo spazio per dipingere la sua opera ce n'è un altro qui poi ce ne sono altri diciamo in altre zone ma diciamo quelli fondamentali sono quelli che vi ho indicato questo per esempio un altro qui sulla barba di giuda poi c'è un'altra cosa interessante da poter dire noi sappiamo che il caravaggio prendeva le persone i suoi modelli sono delle persone prese dalla dalla strada insomma da sono persone del popolo e di conseguenza non erano modelli pagati ma persone che lui prendeva e pare che lui usasse questo sistema diciamo lui aveva una un'abitazione studio che a roma è a vicolo del divino amore e la proprietaria di questo di questo appartamento di questa di questa di questa casa si chiamava prudenza bruni e lui aveva preso in affitto l'ultima all'ultimo piano di questo appartamento e aveva questo appartamento aveva delle finestre molto alte sulle sulle pareti della stanza principale e lui utilizzava questa luce naturale come aveva insegnato leonardo che diceva del lume che diciamo che da luce a una composizione deve essere un lume che viene da sinistra a 45 gradi in maniera che così le ombre rimangono morbide e non e non sono invadenti diciamo nella non creano degli contrasti troppo di chiaro e di scuro nella nella pittura per cui lui ubbidisce a questo insegnamento e fa questa cosa per cui evidentemente prendeva delle persone le faceva muovere componeva la reale idea già di come comporre questa questo questo dipinto quest'opera che stava preparando le faceva muovere finché non trovava la giusta sistemazione e poi li faceva fermare per poco appunto lui disegnava queste parti e poi probabilmente uno per volta poi potevano posare per la sua pittura dentro della sua opera che stava componendo e questo si può dire che questo è giuda appunto non che bacia e tradisce gesù allora qualcuno mi ha fatto una dacia ma questo è strano questa figura perché ha un braccio molto corto si accorta di un braccio quanto è corto di così ma allora se per questo anche la testa molto molto grande e probabilmente siccome giuda rappresenta il male allora è la diciamo nella nell'uso comune semplice popolare di roma si dice che le persone segnate da dio che nel senso che hanno qualche problema fisico sono persone che possono essere cattive infatti il proverbio dice guardati dai segnati da dio per cui potrebbe essere che lui ha scelto una persona che aveva diciamo delle menomazioni nel senso che magari un nano per cui aveva una testa particolarmente grande per la sua corporatura il braccio corto diciamo e l'abbia preso come modello per fare giuda che era il male in questa conclusione il male vero è questo e lo stesso personaggio poi ha questa cicatrice che non è un errore diciamo di costruzione dell'anatomia della mano ma in realtà una cicatrice e la cicatrice può dominare il tipo di lavoro che poteva fare questo uomo che poteva essere un falegname poteva essere un maniscalco poteva avere diciamo un lavoro che usava le mani e questa mano appunto ha questo segno e in qualche maniera la cicatrice sulla mano destra sinistra che prende Cristo può essere una testimonianza ulteriore della negatività di questa di questa persona e poi ci sarebbe da dire tante altre cose per esempio questa secondo me molto bella diciamo rappresentazione di Giovanni che è proprio è come una specie di emanazione dalla figura di Cristo perché Giovanni praticamente Giovanni si legge soltanto la testa e il braccio il corpo non c'è è dietro il corpo di Cristo e per cui non lo vediamo e questo urlo che lui sta facendo perché lui si spaventa di quello che succede nella realtà lui era più giovane dei suoi postoli era un ragazzo infatti questo è quasi a un viso androgino diciamo e lui si spaventa di quello che succede perché vede la violenza che sta accadendo accanto a lui e mentre lui praticamente con questo sguardo praticamente annullato è ormai fuori dalla vita l'urlo di Giovanni giovane è la sua trasmissione diciamo della vita che lo sta abbandonando la trasmette a Giovanni che urla e che esce fuori dalla scena la trasmette a Giovanni è la sua trasmissione diciamo